Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, sono Mr. Mario e oggi siamo tornati su piante contro zombie ragazzi Possiamo iniziare Ragazzi, caricherò questo video insieme al live di Zuma Deluxe Prima Zuma e poi questo Cioè, questo Eravamo rimasti qui con live Sì Proprio così Allora, questo, questo Potrei dire questo Che praticamente lo metti in ogni parte del campo A parte dove ci sono le tombe e le piante E questo, tutti gli zombie che ci sono nel Nel perimetro della Nel perimetro Li, come si dice, li ghiaccia Per qualche istante E poi si ritornano Però vanno più venti E poi ritornano normali Vorrei vedere Possiamo andare ragazzi Possiamo andare Iniziamo Oddio, aiuto, aiuto, aiuto Inizia Inizia, inizia ragazzi Inizia Inizia ragazzi ok ragazzi a questo punto direi che stanno benissimo oddio aiuto ragazzi aiuto 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 qua ci vuole qualcosa di serio per poter ok ragazzi siamo in serio pericolo se questo no 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 ci siamo capiti malissimo ci siamo capiti malissimo ancora uno 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 si 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 siamo salvi ragazzi siamo salvi non ci credo seriamente ma mi state prendendo in giro seriamente davvero no 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 si si meno male questo zombie è troppo cioè no questa pianta è troppo coraggiosa 275 questi piccoli non li prendo più adesso oh cavolo 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 devo mettere questo con forza diciamo che sta andando bene questo livello dai sta andando benino grazie ok direi che possiamo iniziare a piantare questi ah no sono arrivati all'ora da finale non serve a niente piantarli quelli ragazzi siete pronti e allora via guardali guardali ma tutti ghiacciati ragazzi tutti ghiacciati ok ok ragazzi sta andando bene sta andando bene beh ce l'abbiamo fatta dai ce l'abbiamo fatta e questo è l'importante ragazzi questo era l'importante è morto ok ragazzi non so che cosa succederà adesso adesso mi pare che c'è questa pianta che se la metti lì esplode e fa esplodere tutto però poi resta il buco e non ci puoi mettere la pianta no ragazzi questo è impossibile dai ci sono queste e questi insieme è normale che non c'è quello con secchi in testa perché sennò allora devo provare questo però stavolta cambiamo un po' questo 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 adesso non lo metto mettiamo questo mettiamo questo mettiamo questo ok ragazzi possiamo andare sono sicuro che qua arriverà o qua o qua o qua sono abbastanza sicuro poi non lo so ma ne ero sicurissimo ragazzi veramente sicurissimo non lo mettiamo così così almeno ci mette di meno dai ragazzi stiamo andando bene stiamo già piantando un sacco di piante ragazzi sta andando bene dai secondo me è anche uno schema questo qua perché guardate questi cinque e questi due paralleli ok ragazzi adesso direi di mettere questo qua ok ragazzi stiamo andando benissimo dai stiamo andando benissimo possiamo dirlo io parlo ma poi succede questo quanto lo odio sto gioco quanto lo odio troppo cattivo con me sto gioco perché e beccati sti tre vabbè fa niente e dai però non è possibile ah ci abbiamo due orde ragazzi almeno nella prima orda questi non funzionano però ragazzi non abbiamo ancora piantato piante forti a parte questo sono tutte piante deboli e non va bene per niente non va bene per niente aiuto 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 ancora questi oh ragazzi sta facendo difficilissimo la situazione da qua adesso qua ci metto solo questi un altro? grazie grazie ecco grazie eh ce l'ho messo qua appare qua ovviamente ragazzi questa è la legge di piante contro zombie tu metti la pianta da una parte e un zombie esce dall'altra ecco beh ragazzi sta andando benissimo dai sta andando benissimo ancora due soli e ne mettiamo un altro così questo qua muore subito dai sta andando bene non posso dire niente sta andando benissimo dai a parte per il fatto che ho messo una pianta qui e riuscito lo zombie qui però quella è un'altra cosa per questo gioco ragazzi io vi do un consiglio se questi sono più ingranditi che piccoli non prendetevi quelli piccoli perché sennò poi sbala tutto e c'è michael jackson l'ho cambiato prima di fare l'episodio ragazzi comunque dovete ammettere che è una figata dov'è? è sparito peccato dai ragazzi ancora uno e ho coperto tutto questo a questo punto ragazzi non mi rimane che togliere le prove a questo punto non mi rimane che togliere tutte le tombe semmeno ci trovo anche non vedete più tommi togliere le prove più tommi togliere le prove quando ragazzi finirà la serie di piante contro zombie ragazzi ragazzi io non vi prometto niente forse e dico forse inizierò inizierò a piante contro zombie 2 perché ragazzi è sul telefono però prende tantissima memoria con tutti i giochi che ho sul telefono è praticamente difficile è praticamente impossibile riuscire a scaricarlo quindi vedo se riesco a scaricarlo se riesco a scaricarlo meglio per voi perché fare un altro gameplay lunghissimo ahahah è peggio per me beh ragazzi l'ultima tomba si si abbiamo distrutto tutte le tombe abbiamo distrutto tutte le tombe e ora c'è michael jackson che alla fine ragazzi questa è la versione inglese e c'è questo zombie nella versione italiana del gioco c'è michael jackson seriamente c'è michael jackson nella versione italiana del gioco ragazzi è arrivato il momento sta per arrivare colui che ci darà quasi tutti gli zombie è lui è il coso veramente niente tutto ha fatto esplodere manco fosse un'esplosione nucleare ok ragazzi siamo col boss lo faccio il boss ragazzi perché voglio farlo veramente il boss questo l'abbiamo fatto l'abbiamo letto è la stessa cosa del primo solo che ci dice vuoi un gelato al al cervello d'accordo ragazzi stiamo per finire anche il mondo non ci credo tutti gli zombie ci sono stiamo per finire anche il mondo 2 ce la possiamo fare ragazzi eh sì vabbè un attimo però no questo dopo muoviti ma perché è proprio la pianta più schif- no raga mi mette solo le piante oddio 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 se ci sono solo queste piante qua allora stiamo freschi che abbiamo perso ok questo no cioè ragazzi tutte le piante più inutili mi danno quelle queste no eh queste sì queste sì quelle no ovvio no ok ragazzi questa si prospetta una gara difficilissima anche perché anche perché ragazzi non mi da piante forti non mi da piante forti mi da solo questo schifo di piante eh sì eh sì vabbè poi no raga perché mi da tutte queste piante le piante eh sì vabbè no è impossibile raga non ce la farò mai sono tutte le piante debolissime gira malissimo oggi la fortuna oddio no ok così va benissimo ragazzi è già un'orda cioè raga non ho praticamente piante è già un'orda c'è già un'orda e non ho più piante praticamente no è impossibile questa ragazzi non ce la faremo mai è impossibile non ce la faremo mai ragazzi è impossibile giocare con queste piante fanno tutte schifo e poi ci sono tutti i zombie più forti in una in una sola è impossibile raga non ce la faremo mai 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 e poi mai è impossibile non si può eh dai però non è questa è sfiga ok grazie ho fatto una killman insomma non so quale vai muoviti muoviti che mangi nooo raga mi è andata malissimo stavolta madonna madonna no raga è impossibile non si può fare non si può fare se non mi da l'ipno fungo si quello che è dai ok questo livello non è dei più fortunati eh dobbiamo dirlo eh sì vabbè poi qualcos'altro magari gesù scende gesù cosa no no guarda non so c'ho poco e niente di piante qua ragazzi siamo arrivati alla fine io mi tengo in selvo questi qua perché così ragazzi li do tutti alla fine e se li do tutti alla fine questo vuol dire che li uccido tutti quindi usando poche piante no perché ho messo questo che si spaventa no raga è impossibile questo ok è morto è morto non ci facevamo problemi è morto ragazzi arriva l'orda finale e io so già cosa fare casino nooo madonna che casino abbiamo vinto ragazzi il mondo 2 è finito abbiamo sbloccato la piscina ragazzi la piscina perché questo c'è una piscina lunga due metri non ci sta mai ci fa stare le piante ragazzi ce l'abbiamo fatta ragazzi ce l'abbiamo fatta finalmente va bene se il video è piaciuto lasciate un commento mi piace qua sotto commentate iscrivetevi e noi ci vediamo al prossimo video ciao ragazzi ciao ragazzi ciao ciao